Ultimamente non mi sto sentando molto bene, questi ultimi mesi sono stati davvero difficili per me. Di solito non mi piace parlare di come sto, dei miei problemi, ma mi sento la testa scoppiare. È brutto quando ti impegni su qualcosa e ti ritrovi dopo mesi di duro lavoro senza risultati. A volte vorrei semplicemente abbandonare tutto, perché continuare a combattere qualcosa di incerto, ma allo stesso tempo non voglio e fa male. So che continuerò a lavorare sul mio sogno, so che fra qualche ora ritroverò il sorriso e la voglia di continuare su questa strada è difficile, ma in questo momento mi sento persa. Vedere il calendario e i giorni che passano velocemente, sento la pressione di fare qualcosa o altrimenti sono solo un fallimento. Il mio Instagram non aiuta di certo vedere tutte quelle persone della mia età che si divertono e hanno già realizzato i loro sogni. Mentre io sono qui, nella mia camera, da sola, con gli occhi fissati sullo schermo. Quanto a me? Quanto è il mio turno per essere felice? So già che non avrò mai una risposta. So che il futuro dipende solo da me. So che domani è un altro giorno per riprovare, ma per questa notte penso che piangerò un pochino, ma domani andrà tutto bene. Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.